Ciao a tutti e bentornati Ci troviamo qua oggi con uno dei due giochi gratis del plus I primi giochi gratis del plus del 2020 Io già questo gioco lo portai sul canale Quindi chiaramente già qualcosa avevo fatto Però non avevo nessun DLC Però adesso sto guardando C'è un macello di roba Ah mi fa entrare Ah no è vero avevo comprato l'edizione speciale mi sembra Quindi adesso non so neanche poi quando voi andrete a vedere il plus cosa vi da Sinceramente Adesso vediamo un po' Cosa Cosa sarebbe questa Vice City Ah lo scopo del gioco qua è molto semplice Fare punti Adesso vi faccio vedere un attimo Cioè come gioco è demenziale Cioè non c'è un'altra parola per questo gioco Però se non mi sbaglio Allora se non mi sbaglio c'era anche un modo per vedere gli obiettivi Ah ecco esegui con successo Il salto mortale in avanti e indietro Bam Molto demenziale come gioco Inizia una corsa No Io all'epoca lo pagai 5 euro questo gioco Però si può fare tante cose Cioè del tipo Adesso andiamo verso le giostre dai Sì io questa era la mappa che giocavo sempre Ma cosa è distruggere Portarsi in giro le cose Bam Oh non ce la fa In avanti è andato Vediamo se ci fa stare sulla montagna russa Bam Testata Questo c'è Lo scopo del gioco non è che ha chissà quale scopo alla fine Solo quello di fare punti E beh è stupido più che demenziale Però Però ci sta Per essere un gioco Del plus Ci sta Beh Gli attestate Gli attestata Spacco tutto Pecola in bizzarrita Spacco tutto Le vadi Spacco tutto A te ti porto in giro Dov'è l'azzalto Io direi che quello che potevo farvi vedere vi ho fatto vedere Perché non è che c'è tanto da fare in fin dei conti Cioè questo è il gioco Io vi ringrazio tutti Se avete qualche domanda scrivete pure nei commenti Ma per questo gioco c'è poco da chiedere Però se avete qualche domanda o per caso volete vedere magari qualche live in diretta Così almeno ci può essere anche uno scambio di opinioni Due risate in compagnia Scrivete pure nei commenti Io per adesso vi saluto con questo gioco E ci vediamo alla prossima Ciao a tutti Ciao ciao